Oggi testimonianza dalla Spagna, sono una ragazza Erasmus che si trova a Siviglia appena uscita per cercare di trovare dei guanti, dei disinfettanti che ovviamente non si trovano in nessuna farmacia, in nessun supermercato questa è la situazione stamattina a Siviglia un normalissimo lunedì con l'unica differenza che forse ci sono meno macchine ma la gente esce di casa tranquillamente senza nessun problema e purtroppo qui la Spagna ha sottovalutato molto la situazione solo giovedì hanno deciso di chiudere l'università e solo nella giornata di venerdì sabato è stata decretata la chiusura di tutte le attività commerciali esclusi gli alimentari e ovviamente le farmacie noi siamo qui, tutti noi studenti, ad aspettare che qualcuno ci faccia sapere come doversi muovere io personalmente proverò a tornare domani tramite il traghetto che la Grimaldi Lines ci offre da Barcellona devo sostenere quindi un viaggio da Siviglia a Barcellona in treno e dopo otto ore prendere il traghetto che mi porterà a Civita Vecchia spero che vada tutto bene un abbraccio grazie a tutti